Una notizia di motociclismo, la stagione 2021 del campionato italiano Velocità ha preso il via questo pomeriggio sul circuito del Mugello. Prima gara entusiasmante per l'abruzzese Flavio Ferroni, lo vedete in questa immagine, con il numero 33 quest'anno nel Superbike con il team Nuova M2 Racing e con la sua Aprilia. Il pilota di Alba Adriatica ha conteso la vittoria a Michele Firro fino all'ultimo metro, battuto per appena 30 millesimi di secondo.